Non ci sono né vincitori, né vinti, forse carnefici e vittime. Ma quel che è certo è che in una vicenda come quella che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sofì Codegoni nessuno si salva. Il 14 ottobre, a Verissimo, l'attesa intervista dell'ex tronista di UID ha provocato un polverone. Si era compreso che la neomamma avrebbe fatto rivelazioni scioccanti, e così è stato. Basciano mi ha tradito con la sua ex, eppure quando ero in gravidanza. Durante il mio parto si è addormentato. Mi ha fatto sentire una M asteris. Non è un uomo, ma un ragazzo. Lui è un manipolatore. Sono solo alcune delle esternazioni pesantissime rivolte al DJ. Lui, dopo una manciata di minuti, è passato al contrattacco. Chiedo diritto di replica a Verissimo. Quando parerò io saranno C asterisco asterisco Z i amari per tutto. Sono stato diffamato. Ci sono diversi punti di vista per valutare una simile storia. In ottica relazionale, seppur fossero veramente accadute solo la metà delle cose narrate dalla Codegoni, è assai probabile che siano vere tutte, ma essere clementi in attesa della versione di Basciano non costa nulla. La posizione del DJ sarebbe deprecabile. Ciò che spaventa del racconto dell'ex tronista, non sono tanto i tradimenti. C'è pieno il mondo di persone infedeli. Non che ciò sia giusto, ma ci sono atteggiamenti ancor più gravi. Quelli maschilisti. Intrisi di possessività e machismo. Un tema più che mai attuato. Corre l'anno 2023. Eppure parte della società è ancora troppo impregnata di medievalità. Un tradimento per alcune coppie non è la fine del mondo. Certo è un fatto grave, ma se c'è una base solida nella relazione lo si può superare. Se si è innanzi al solo cedimento della tentazione della carne, si può andare oltre, come possono testimoniare milioni di coppie. Non si può andare oltre, invece, quando c'è possessività e maschilismo tossico. Questo è il caso di Basciano? Secondo quanto narrato dalla stessa Sofisi, dunque, sempre che il suo racconto corrisponda al vero, si è innanzi a una classica dinamica di rapporto nocivo da cui è meglio fuggire.